Ciao a tutti, siamo un gruppo di rianimatori di Foggia e colgo l'occasione per ringraziare la città di Foggia che ci è vicina in questi giorni particolarmente duri con tante iniziative e in particolare volevamo ringraziarvi tutti quanti per aver accettato di aderire anche a quest'ultima iniziativa della magliettina Riuniti per Foggia, il cui ricavato sarà devoluto agli ospedali, al Policlinico di Foggia per l'acquisto di materiale che potrà esserci utile in questa battaglia particolarmente dura. Grazie da parte nostra e giustamente mi suggeriscono di ringraziare anche per le donazioni che ci sono giunte. Grazie a tutti. Ciao! Ciao!